Direzione stadio, sono quasi le 2.10, stiamo andando a vedere la Samb contro il Riccione Hanno detto che ci saranno più di mille persone Ma Brito come stai? Sto bene, una buona giornata oggi Ieri abbiamo registrato un video, mi raccomando il 4, il 4 marzo, tutti a guardarlo Ieri abbiamo fatto una bella roba Molto bella Sì, per me è stato bravissimo lì La mia prima volta che faccio una cosa in l'altro idioma è stato divertente Siamo arrivati e già tutte le strade sono chiuse Sarà il pienone oggi Dovinate qua cosa abbiamo incontrato? Abbiamo incontrato il ninja Sì, per me è stato bravissimo lì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.